Oggi ragazzi, Sprite Challenge Sì, oggi voglio iniziare così proprio a bomba, perché sono carichissimo Va bene, non sono carico, però iniziamo Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fexy Madonna ragazzi, ve l'ho detto, sono carichissimo oggi Vedete com'è? Ho iniziato subito Non c'è proprio neanche il tempo Sto cercando di autoconvincermi che ce la farò Non so se funziona Beh ragazzi, questa location sapete che cosa rappresenta, no? Video dove mi faccio del male E poi ci sono anche quelli in cucina, però Visto come cucino, mi faccio comunque del male Però, attenzione Abbiamo già portato un episodio di questo tipo Anche quello, una min***a Nello scorso episodio ho provato a bere un litro e mezzo di Coca-Cola Senza ruttare, ovviamente ho vinto Ok Ah no, ho perso Vabbè, non era per niente fattibile come cosa E visto che su TikTok, dappertutto Sta spopolando questa moda della Sprite Potevo non farla? Che schifo Sono abbastanza convinto che con questa riuscirò Cioè, mentre dico le cose penso Ma che cazzo Signora Dovrebbe essere più fattibile La Sprite Non ci credo molto a questa cosa No, più che altro ho visto qualche video Ma dopo due secondi la gente Dei suoni che veramente è un T-Rex Quindi non lo so Però ragazzi Iniziamo subito Perché sono proprio gasato E poi con sto caldo porco Ho anche sete Quindi perfetto Non perdiamoci in chiacchiere che Ah, non serve Stavo per fare una cacare Appena inizio Stai calma Stava cercando di farmi del male Sono riuscito a bloccarla Sì però Datti una calmata Perfetto Io ragazzi Inizio subito Spero di riuscire a berla tutta In un colpo solo Quindi questo video Potrebbe durare anche solo un minuto Mi fermerò tra dieci secondi No, però l'intento è quello Di berla tutta in un colpo solo Che secondo me È poi la soluzione Perché se ti fermi Puoi si fare il gas Inizi a morire dentro È un casino Quindi Un bel like ragazzi Per supportare Queste cagate Che faccio ormai Tutti i giorni Ma perché non la smetto E fatemi sapere Se vorreste altri episodi Tipo questo Ma voi non li volete Anche perché ragazzi Se continuo così Crepo tra un mese Vabbè non perdiamoci in chiacchiere 3 2 1 Classica preparazione Da maestro zen Così La smetto Che cosa avevo detto Prima che mi fermavo Dopo dieci secondi Ho azzeccato Addio Non credevo fosse così Incasinato Peggio della coca cola Non pensavo Sento già lo stomaco Che fa suoni incredibili Raga non ce la farò mai Poi in teoria La challenge Con la bottiglietta piccola Ma io ovviamente Devo fare le cose più difficile Che sono un cretino Quindi ho preso quella Da un litro Sto già per esplodere Non è possibile Vai giù Devo farcela raga E che cavolo Non so neanche bere Mi è esplosa Continua comunque A volermi aggredire Non capisco perché Che cavolo ti ho fatto Sprite del cavolo Adesso ti No non posso ruttare Non ho niente con cui pulirmi Ma chi se ne frega Madonna Allora lo so Questi video Fanno schifo al caso Però mi voglio mettere Alla prova Devo riuscire a capire Se riesco a affrontare Queste Sì Sì questo è stronti Non serve a niente capirlo Però E che cavolo Vero uomo Ragazzi è devastante Sto soffrendo come Calimero Madonna sta salendo Lo sento Devo resistere Sono quasi A metà Si può dire In realtà Potrei anche dire Di aver quasi vinto Perché La challenge È da un litro Non un litro e mezzo Quindi ha un litro Rutto tantissimo Ve lo dico Però non la faccio più Mamma mia La spetta È devastante Non pensavo Ragazzi Vi giuro È peggio Della coca cola Ora capisco Perché le persone Emettono soni Che è veramente Un veloci raptor In calore Oh mio Dio Mi sta salendo Di tutto Devo bere Non ce la faccio Sono quasi sotto L'etichetta Quindi Ho superato il litro Non mi posso Arrendere Vigliacater Che dolore Ha la mano Oh mio Dio Ragazzi Lo stomaco È tutto gonfio Sento che sto Per saltare Madonna Ma sti video Fanno proprio cagare Perché mi ostino A continuare A portare Perché Cagate Allora Cos'era Mi è vibrato Il cervello Ok Mi sento meglio Ragazzi Devo continuare Perché se faccio Lutti del genere Guinness World Record Per un attimo Ho visto vibrare La stanza Oh mio Dio Non ti temo Sai Mio Dio Si ricrea subito Il gas È istantaneo E che cos'è In realtà In realtà Ho perso No Perché Consisteva Nel bel Un litro Di sprite Tanto Ragazzi Avete già capito Sto video Com'è no Gas da sopra Da sotto Comunque mi sto liberando Mi rendo conto Che questo video È uno schifo Senza precedenti Perdonatemi ragazzi Quando escono Questi video Fate finta Che io Mi abbia preso Un colpo in testa E abbia iniziato A registrare Cosa a caso Devo finirlo ormai Manca uno sputo Di gantropo Non devo ruttare Così automaticamente Ho vinto Ah Doi Non mi trovo a dire adesso Immagino già le persone Che stanno guardando Il mio canale Per la prima volta Stanno pensando Poverino questo Ha proprio tanti problemi Perdonatemi Capita ogni tanto Che escano fuori Non riesco a parlare Vai a cacare Un litro e mezzo Di sprite Andata Biodi Sto per esplodere Adesso salto in aria Madonna che contenuti Terribili Ma com'è possibile Dico io Fare un video del genere Ma io che c***o Sono proprio cretino Sto anche smocciolando Fammi prendere qualcosa Diciamo ragazzi Che la challenge È stata superata A pieno Cioè alla fine Comunque il primo litro È andato giù Che è un piacere Ho fatto un rutto Che ho visto Ho visto la telecamera Muoversi Sto per morire Comunque La sprite Deve essermi entrata In circolo in circolo Nel cervello Inizio a vedere anche male Poi sono riuscito a finire Anche l'altra metà Quindi Niente È ritornato l'orso Che c'è dentro di me Challenge superata Ragazzi Che cosa triste Mi applauso da solo Giudicate voi nei commenti Ragazzi Ditemi se questa challenge Può essere effettivamente superata Non mi insultate troppo Vi prego Però come sempre Prima di concludere Vado a salutare Dove cavolo è il tele Porca Che cavolo saluto Non ho preso i nomi Niente Sono deficiente È inutile C'ho la sprite nel cervello Aurora Ferrari Niente Non riesco più a smettere Adesso vado avanti Fino a stasera Francesco Toncelli Leo De Wolf E Pierdo Castelnovo Ciao ragazzi Il bc3 di oggi È inutile dirvi Che questo suono In questi casi è perfetto Madonna faccio cagare Quanto schifo Aurora Ferrari Grandissima E raga mi raccomando Se volete essere salutati Vi basta riscrivere Un commento divertente Sotto a questo video E l'ultimo video di conto Che in descrizione Avrete tutti i link Dei miei social Instagram, Facebook E quindi se vi va Sicurimi su Instagram Asciutto per gli mi piace Alla pagina di Facebook Mi scherzo al canale Per supportarmi E ragazzi vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Non so se si sente Sto crepando Madonna l'aspetto Non pensavo Fa malissimo in realtà Ovviamente non ho preso nulla Per chiudere il video Devo lanciare lo straccio Ciao ragazzi Perdonatemi Per questo video Del cavolo Perché faccio sti video Che non hanno senso Ecco perfetto Per concludere In bellezza No E vabbè Mi sto cacando addosso E vabbè